AS Roma VSUS Palermo 23 ottobre 2011 Senchensie Seltzer Ucchensie. Autor, di, punto, Seltzer, trattino, Ucchensie. Il mio suggerimento, vincete per Roma. Uno dei duelli più interessanti dell'ottavo giro della serie italiana dovrebbe questo ottenere a malgrado il fatto che questi due gruppi hanno raccolto sconfitte al fine settimana scorso. Ma grazie ai buoni risultati degli ultimi giochi essi sono nel mezzo di tavola inoltre. AC a Roma e classifica dodicesimo con otto punti mentre l'US Palermo ha due punti di più sul conto e quindi è sulla sesta posizione nella Lega. Il Palermo ha trionfato nei due duelli diretti nella stagione scorsa. I romani molto più hanno avuto successo davanti a quello. È il dettaglio in un modo interessante che più di tre obiettivi lo hanno ottenuto regolarmente nei loro duelli reciproci all'interno dell'ultimo tre anni. L'inizio, 23 ottobre, 2011, ore 15. Con i romani la situazione è anche simile a negli ultimi due giri della serie di questo anno perché essi hanno restituito giochi molto efficienti in duelli contro Atalanta e Lazio. Essi hanno conquistato lo scalatore da Bergamo nello stadio olimpico con 3-2-1 mentre essi sono stati conquistati dal grande rivale di Cittalazio con 2-2-1 in questo stesso stadio come un gruppo visitatore sette giorni fa. Le spese dell'allenatore Luis Enrique non sono sembrate così cattive sull'uogo di svago, però essi sono entrati in leadership così molto presto. Nel finale del gioco essi erano, tuttavia, non più così molto concentrati e due obiettivi semplici contro proprio gruppo hanno fatto denaro. Il primo obiettivo contro è stato un calcio di rigore e sebbene ha strappato giù per l'aggressore opposto dopo quell'uno dei difensori Chiaer nella stanza stretta. Con una carta rossa egli è stato fornito dal posto. Il gruppo Chiaer sperde per concludere attraverso il colpo dell'ultimo minuto di Miroslav Klose. Nella perché si riceveranno gruppo estremamente spiacevole da tempo Palermo associati in lutto. Gli ospiti giocheranno con certezza molto più in modo aggressivo per prendere vendetta per le sconfitte dell'anno scorso. L'allenatore Enrique si divertirà con tre arrivisti di nuovo e l'esperto Borriello probabilmente si accumulerà dal primo minuto così. Gli arrivisti feriti Zotti e Okaka, i difensori Cicino e il Rossi così come il portiere che l'uobont ancora sarà hanno cancellato inoltre il Chiuso Chiaer. Lista attesa alla Roma, Stechelenburg, Cassetta, Gurdissu, Yuan, Jose Angel, Perrotta, De Rossi, Pianic, Bojan, Borriello, Osvaldo. Pregate a 365, 100% a 100 compenso esclusivo. Al liberatore premio vincente. Esattamente come i romani, i giocatori dal Palermo hanno una sconfitta 3-2 punti zero esterna contro la corrente Domina Aci Nailand in questo gioco anche dopo un Pisan Tengu. Noi la richiesta di contenitore Rigtli quello A questo allunga il gioco peggiore dei ragazzi dell'allenatore Mangia stato nel corso precedente del campionato. Quello che è anche peggiore è diventato questa sconfitta secondo la serie eccellente di due vittorie. Un tiro si è riunito e l'atmosfera è probabilmente un piccolo tempo nel gruppo ora. Ottiene trattenuto di solo un punto e questo non è per nulla incoraggiante prima che questo duello nello Stadio Olimpico nei tre aspetti di ospite precedenti. Tuttavia, l'allenatore Mangia ha annunciato che essi non si difenderanno alla Roma. Gli avversari favoriscono questo volete fare averlo fatto una prova con la loro stile, sorpresa disposta aggressiva inequivocabile, esattamente come essi nella stagione scorsa. Dopo un gioco molto cattivo al Milano un capitano non abbastanza adatto Niccoli starà alla panca durante quale Quipinilla procederà insieme a Hernandez all'inizio dell'attacco. Il giovane Acqua otterrà la priorità nel centrocampo di fronte al deboli Bertoni. L'esperto Balzaretti viene indietro all'inibizione sulla posizione del giocatore esterno sinistro. Grazie. 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 Grazie.